Hai un bacio lungo a dibito, ormai l'ha messo a fuoco Vero, sembra che io sono a fuoco però Dici, non mi sembrava che io ho visto Vai a cliccare su che faccio No, non sei a fuoco Mettimi un po' a fuoco Se clicco si mette a fuoco No, devi girare la ghiera La prima riponda Ok, io stando con la mano davanti Devo ricliccare...ah No! Non ho matto Non è che vuoi ad alzarti Ciao a tutti i video di youtube, sonociate e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui in compagnia di... Ma non mi presenti Greta, dì il tuo nome! Ma perché non mi presenti? Ma perché lo sanno chi sei ormai? Ma vai devi presentare! Ma che vuol dire che mi faccio la celebrazione sola! Bravo Greta! Bravo! Detta anche aliascaillustration Della illustratrice famosa di instagram Seguitela ragazzi, mi raccomando In descrizione trovate il suo nick Mi ha fatto anche un disegno molto 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 bello Qual è? Quello con Francesca Molto bello A proposito, cosa faremo oggi? Oggi farò un video molto divertente Soprattutto da fare con Greta Ovvero reagirò ai commenti più strani Sotto il mio ultimo video Quello del coming out Ma che ce ne sono veramente Veramente Greta, preparati Perché ce ne sono... Io non ho letti di proposito quindi... Ce ne sono alcuni che sono molto molto strani Quindi io li leggerò e vedrò Vedremo anzi la reazione di Greta A me è praticamente vedere un documentario di me Esatto Ma il mio canale diventerà Probabilmente un documentario di tesi È la persona più strana e interessante che conosco Guarda quanto si impassano i colori Ma infatti non capisco Ma è in maniera gestiva Se vuoi mi abbasso un po' C'è la sedia anche Vabbè che sei più volte di me Però c'è anche la sedia Vuoi fare cambio? Ma no, non mi prego Con un metro e dieci cubo Allora Innanzitutto Prima di cominciare il video Volevo ringraziare tutti quelli Che mi hanno scritto sotto il video Tutti quelli che sono venuti Al Romix A congratularsi con me Che mi hanno fatto i complimenti Che mi hanno detto Che sono stata coraggiosa Tutti vi voglio tanto 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 bene E sono contenta Che voi abbiate preso così la cosa Non pensavo che sarebbe stato Un riscontro così tanto positivo Invece veramente Mai vista tanta felicità Sotto un mio video Quindi sono contenta E anche ad altri haters No in realtà no No Molti 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 pochi Cioè su tipo 3500 commenti Ce ne saranno massimo una ventina Denigratori Anzi Penso che sia Perché comunque L'argomento dell'omosessualità È diventato uno di quegli argomenti Per cui se ti schieri contro Sei stronzo Esatto Ma da una parte anche giunta Nel senso che Non è una cosa Quella in quale ci si può schierare contro No assolutamente È una cosa delicata Esatto Se prima Se prima Parlare di una cosa del genere Era quasi un tabù Adesso invece Non dico che sia diventato un elogio Perché è sbagliato anche quello estremo Cioè È il stesso errore Non è che siamo degli unicorni felici Tutti bravi Belli Incredibili No non è così Siamo tutti uguali E questo è il senso E questo è il messaggio Che non dovete adorare una persona Soltanto perché omosessuale O perché i capelli blu Esatto E non dovete odiarla Per gli stessi motivi Quindi il senso era l'uguaglianza E sono molto felice Che molti di voi l'abbiano compreso Ora basta quello che ci sei E arriviamo Perché è arrivato il momento di ridere Va bene Patate Arrosto per esempio scrive Esterniamo Viva la figa E chi la castiga Ma comunque è un nuovo poeta contemporaneo Chi sei tu Patate Arrosto? Ti prego scrivimi Voglio fare una nuova raccolta Di illustrazioni con le tue Con le tue perle Cioè sei un cazzo di qualità contemporaneo Ma tu non sei in grado Ma fatti il Patate Arrosto Già questo dice tutto Tatti ma che sia rossa Incredibile Davide scrive Quanta carne è sprecata Vabbè sprecata per chi però Esatto Infatti dipende dai punti di vista Esatto Io oggi ho fatto ad esempio il test 0-0 gradino Quale test? Il test di Kinsei Il test di Kinsei Kinsei Per vedere il grado di homosexualità Si perché ragazzi fatelo Capite di voi Scrivetemi nei commenti poi che numero vi esce Esatto E io sono uscita a gradino 0 E non credevo di essere così 0 E invece sono totalmente etero Questa cosa No Piacevolmente sconvolto Piacevolmente? Piacevolmente Perché non lo credevo Quindi sai cosa ti piacevolizza la cosa piacevolizza Nuova poeta Made in aliasca illustration Ma per favore pateta rosso ti vuoi mettere con me? Cioè capisci? Sai che figli escono? Una bellissima C'è un po' lo spiego Prego questo non la metto Sei una crudiglia grippante Dicono il mio sogno di buttartelo si è infranto Poi inserirglielo senza buttarglielo tipo con l'amo Ma dai ma per favore ma si trattano così le ragazze buttarglielo? Ma che modo è? Ma che modo è? Pare che è boob figli e butti Figli e butti Non lo so Boob Sì vabbè Grazie però mi dispiace ma il tuo sogno si Comunque è un complimento Cioè ma che poi io dico C'è un complimento Sì certo Però io dico Cioè non è Pure che fossi stata etero Non è che l'avrei data a loro Capito? Cioè queste persone che scrivono queste robe qua Tipo E no ma come È che loro stanno organizzando un big rave internazionale con i fan di Charlie Moon In cui organizzano le ammucchiate comuni in cui gente butta roba a caso Scusa ti va che ti butto un po' di Questa video è Coca-Cola Così a caso Coca-Cola proprio Censure Sempre Guarda stai facendo veramente un ottimo lavoro di Lessi con questo video Progressi Io volevo che portorissi i miei figli Ma vabbè questo è penso che sia l'elogio È poeticissima questa cosa Esatto Cioè volevo che fossi la madre dei miei figli Ma che carino Ma senti Poi una cosa Digli i nomi comunque che volevi dare ai tuoi figli e Charlie li darà ai figli che avrà Cioè che è che adotterà Così almeno in qualche modo Quale cosa mi fai rimane Sì perché anche un sacco di gente mi ha detto Ah quindi non avrai mai dei figli Ma in realtà non è detto Cioè so che in Italia non sono ancora Teremo i spazi Legalizzate Però comunque a parte che non ci sa mai Finché se e quando avrò dei figli magari si No ma infatti Ma poi comunque scrivi sui commenti quali sono i nomi che volevi dare ai tuoi figli Charlie li darà te lo prometto Io Francesca gli disse che ci erano messi a riflettere un po' sui nomi E uno sarà Simon ragazzi Quindi lasciarvi immaginare il livello di proprio trash Che è easy con lui No scrivi Simon Cioè siamo in Italia La patria del buon gusto dell'estetica E loro cosa vanno a fare? Simon Vabbè la madre si chiama Charlie Quindi c'è Mi sto dicendo tutto quello no Ma voi lo sapete che si chiama Genoveffa Sì una cretina Genoveffa Giarchata Genoveffa Bruna Non dovevi dire pure il cognome Ma no aspetta questa la devo tagliare La prima quotata tra quando ho detto che ero fidanzata Greta era la più quotata tra le persone Che poi avete fatto Ancora prima che uscisse il video del coming out Il 90% dei nomi che sparavano erano di donne Quindi c'è proprio palese Era palese Ora vabbè Ma dai porca carota Ste carote di lesbica e gay si stanno moltiplicando a dismisura Mio dio Che carcioco Charlie Lasciami stare che sei Lasciamo stare che sei lesbica Ma Renta a tua madre O a tuo padre con l'H Ciaudante Certo si sono abituati Ma davvero cerca di cambiare Cambia tutto questo fallo per te stessa Cambia tutto questo Ma secondo me il fallo per te stessa indica il fallocentrismo E' un gen Ragazzi ma senti troppo paesi Comunque questo è un messaggio che dobbiamo fare a tua mamma O a tuo padre con l'H E che devi chiedere scusa ai tuoi genitori No scusate E' contro natura questa cosa Charlie Chiedi scusa alla tua camera e ragazzi per questo scempio Per favore E' soprattutto la chiesa cattolica Non sei credibile quando desiderò Aspetta non è ancora arrivato il meglio Io ho senza H una domanda Ma due donne possono avere un figlio? C'è C'è scritto C Aposto E poi con l'accento Crearlo loro con l'atto sessuale Greta Allora Rispondi a questa domanda Io prima di fare Naba E mentre faccio Naba Mi interrogo spesso perché non ho fatto sessuologia Io amo quando mi fate queste domande Perché cavolo si finalmente da sfogo al mio estro Allora il discorso è che praticamente tutti non mi hanno raccontato che sei una cicogna E praticamente La cosiddetta cicogna Esatto Anzi io ero troppo avanti Sotto il sombreve dai messicani E credevo che ci si... Cioè si faccia storie figli con la saliva Ah ok Quindi si ragazzi Due donne possono avere due figli Perché se io adesso ci facciamo con la lingua e la saliva Mi fecondo o io fecondo lei Dipende Lo vuoi un figlio Greta Sì sono dronaca Ok L'ho messa incinta raga Dici mi è forza di averti messo io incinta No E forse tutte e due sono due gemelli in due parti diverse Che figata Mamma mia Sì ragazzi Andata La scienza Mamma mia Altro che ci coni I progressi Ma ti immagini che bella No Perché poi non potremmo più poi miciare Ma 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 tu ti metti fuci della labbra strano Per cui Tipo protezione L'anticoncezione No 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 Al contrario Se tu lo vuoi fare ti metti Mmm Troppo comodo Mi stavo chiedendo Mo guardo sto video E dopo le mando il Indirect Mamma Perché non lo mandate sempre queste cose Ma bellissima Forse avete sbagliato youtuber comunque Tu vero non hai youtuber No 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 Non io Cioè ma questi ti vogliono mandare cose E tu li lasci parlare No Bisogna spiegargli le cose come stanno qua Prima Mmm Io lo mandi a qualcun altro Cioè nel senso Perché Ma io non lo so Ma Speravano di farmi cambiare idea tipo Sì cioè sicuro Grazie a te Charlie Oh mio Dio Adesso Guarda non prenderla male Non pensare che ce l'abbia con te Scritto c'è Apostrofe con l'ocento Madonna Madonna Ma ho qualcosa con quelli come te Ma se sei omosessuale Ti titolo per te e la tua famiglia Non caricare un video su youtube Dove può vederlo chiunque Almeno per rispetto Metti il limite d'età Ti voglio bene Ma hai sbagliato a fare questo video Dovevi startene ferma Ma tu lo sai che adesso Frozen avrà gli omosessuali dentro Gli omosessuali dentro Gli omosessuali dentro Cosa ne pensi in riguardo? Cioè l'educazione infantile per te A che livelli deve avvenire? Hai problemi Uno Sì Tantissimi Infatti io ho fatto il video Anche perché so che mi segue gente piccola E trovo corretto Cioè Magari non tutti condividono il mio pensiero Però mi sembrava giusto parlare dell'argomento Anche a chi è un pochino più piccolo Che magari su Disney Channel In tanti posti Questo argomento è proprio zero Mai nemmeno spiorato Basta pensare ai cartoni di macchina E sei tipo di Disney Channel Cioè non è che lei ha detto che ha ucciso una persona E questo segreto di stato Lo deve sapere qualcuno Perché sennò se lo condivide anche gli altri diventano complici Ragazzi cioè Io sono nata con capelli castani Lei è nata lesbica Con capelli blu Scuro Lei è di sangue blu lei Quindi nel senso Voglio dire ma Cioè ma sono serie sto facendo questo discorso Sto facendo pare stupida a farlo No ma sono molto contenta del fatto che Siano veramente pochi i commenti di questo tipo Sì infatti Però mi sconvolge che ce ne siano ancora Cioè mi sconvolge che ci sia veramente ancora gente che pensa a queste cose Non lo so Sarà la mentalità aperta di Milano Sono abituato ormai al fatto che qui è veramente una cosa normale Come giusto che sia Mentre magari in alcuni posti questa normalità non ci ha ancora raggiunto No infatti E mi dispiace molto Però lo stesso tempo sono contenta perché sono davvero 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 pochi i commenti di questo tipo Credo che comunque queste persone magari saranno tanto piccole e avranno alle spalle delle famiglie che non ci importano con questa libertà Anche In primo luogo siete voi Siamo noi il futuro siete voi E noi un giorno andremo a votare Noi faremo sì che persone come Charlie abbiano la possibilità di adottare in Italia anche domani Cioè è veramente una cosa inconcepibile che l'Italia oggigiorno E mi pare distante pure fare questo discorso pesante No no però è vero E' questo principalmente E' vero perché siamo ancora un po' indietro Cioè abbiamo lottato tanto ad esempio per avere le unioni civili che pare volessero togliercele tra l'altro Mi sembra che uno dei due partiti volesse togliere la possibilità ai gay di unirsi civilmente in Italia Che secondo me c'è il diritto base Cioè ma poi tra l'altro loro a te cosa tolgono Cioè veramente ma che cavolo ti fanno? Non lo capisco Anche voi sei stupido vabbè però per il tuo hai capito Mi schieno è nato stupido Mi schieno un quale poverino Però voglio dire cioè ma non è che ti tolgono qualcosa Cioè veramente No sono d'accordo Bah vabbè Ah che poi tutto questo è partito Perché c'è stato un commento sotto un mio video che diceva Non c'ho credito nemmeno un secondo Tu incinta ma fammi il piacere Già sarà un miracolo quando ti fidanzerai figuriamoci un figlio Tra l'altro è più atteso il tuo fidanzamento che la risurrezione di Gesù Senza sapere che in realtà io fossi Sono fidanzata da tanto 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 Cos'è una cosa divertente? Taaaan Cioè da quando il canale non sono mai stata singola Io da quando ti conosco non ti ho mai visto singola Quindi ragazzi mi dispiace di aver distrutto il sogno di questa persona Ma non sono zitella come sembro Io ho paura di essere gay Ma non ho paura di essere gay Ma della relazione dei genitori quando glielo dico Ora grazie al tuo video mi è passata la paura Solo che non so ancora molto bene come dirglielo Ma forse mi farò subito avanti e glielo dico Comunque al di là della listata che mi stavo suscitando Ci sono delle belle parole Perché comunque il tuo è stato un esempio Però comunque sia Mi dispiace che tu dica Io ho paura di essere gay Perché Perché paura? Cioè nel senso È già sbagliato che in te ci sia questa idea sbagliata Dell'aver paura di essere te stesso Cioè E alla fine il titolo del mio video è proprio il coraggio di essere se stessa Esatto E non perché ci voglia coraggio di essere diversi Perché non si tratta di diversità Ci vuole coraggio a esprimere Cioè ma a volte è difficile anche dire solamente come la pensi su certe cose Esatto Assicurati su argomenti che ancora oggi non digeriti bene dalla società Esatto Però ti prego tu in primo luogo non dire ho paura di essere gay Perché come si dice io ho paura di essere non lo so come si chiama Bu Alessio non lo so sto sparando Non ne ho idea non lo dice Chiunque tu sia ho paura di essere x Cioè no assolutamente Essere se stessi è sempre la cosa migliore da fare E lo dico io che purtroppo ho nascosto me stessa per paura E adesso mi se ne so conto che ho sbagliato Esatto Quindi sì è un tale errore farlo Ti senti veramente male Cioè ti reprimi Esatto E da quando l'ho fatto penso sono una delle persone più felici Esatto Io questa conosco Sì c'è incredibile ragazzi non può fare anche cortometraggio autoriali Perché è troppo felice E si lamenta ragazzi Cioè io la dovrei ammazzare a legnate E proprio quelle Cioè proprio il vincito la youtuber Però ho pazienza Cioè forse è tipo quella gente che si lamenta che non riesce a ingrassare Se è possibile Cosa? 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 E' bello E' bello E' bello E' bello Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Un commento Scrivete quali altri video volete con Greta Perché tanto lo so che volete altri video con Greta Perché Greta è gnocca E quindi volete vedere Bellissimo Soprattutto io non sono mai stata così brutta in Asia Come ero nei tuoi video e nelle tue foto Ragazzi io mi scuso per tutte le foto brutte che vedete di me Lasciate un like per far sembrare più bella Greta Ogni like che lasciate Greta è più bella Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao via a tutti ragazzi Vuoi chiudere tu? Sai come ci fa? No è te mi sei tra Beh